Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Eccoci nello spazio dedicato ai bambini con Sergio Sergini. Sì, ciao a tutti, ciao a tutti! Il cantante dei bambini è Stefania Montemuro. Ciao a tutti! Che dà voce a questi personaggi. E adesso, sigla! Bene, Sergio Sergini, che cosa ci hai portato da imparare oggi? Che canzoncina? Questa canzone si chiama Il treno dell'anno! Silenzio! Che è successo? Dorme il leone! Il leone? Aiuto, aiuto, aiuto! No, Roger! È il leone Roger, il tuo amico! Ah, Roger! E allora posso stare tranquillo? È solo un fifone! Eh sì, Roger è un po' fifone! È il leone fifone, infatti, Roger! Sì, sì! Sì, ho saputo che si sveglia soltanto per mangiare! Davvero? Sì, poi dorme sempre! E allora senti qua! Sì, mangià! Oh, oh, oh! Chi è? Chi è? Chi è che ha svegliato? Ciao, Roger! Sono stato io! Oh, tu, sempre con questi scherzi! Oh, gli hai dato la salsiccia! Non è la salsiccia! Oh! No, Roger! Siamo su Cantare in Libertà! Cantare in Libertà? E che cos'è? È certo! Cantare in Libertà è un programma dove i bambini imparano a cantare delle canzoncine! Oh, così! Ci aiuti anche tu a cantare qualche canzoncina! Sai cantare? Ok, ok, ok! Sì, sì! Ok, sa cantare! Però sono sempre io il più bravo! Sì, tu sei il più bravo! Ma anche Roger ha detto di saper cantare! Sì! Allora, qual è la canzone di oggi? Il treno dell'anno! Ok, sentiamo questa canzone! Cantatela con noi, bambini! Sì! Il treno dell'anno ha dodici vagoni, ogni vagoni porta cose nuove! Gennaio innevato, febbraio moscherato, orzo hazzarello, frile con l'ureno! Oggi ho fiori e frutti, giugno a casa tutti! Dai, Roger! Canta con me! Luglio ed agosto, scuola non conosco, settembre la vendegna, otto ore con la nevia, novembre ancora fin più, dicembre con Gesù! Bravo, Roger! Ma sei bravissimo! Sì, sì! Sei bravo! Sei bravissimo! Quindi, vienici a trovare anche tu quando vuoi! Ma certo! È un piacere! Sì, ok! Ok, che bella questa sorpresa! Grazie, Roger! E grazie, Sergio, per averci portato il tuo amico! Ah, sì! Ti è piaciuto! Eh, molto bravo, molto bravo! Bene, bambini! Spero che abbiate imparato questa bellissima canzone e ripetetela sempre con noi! Poi, condividetela con i vostri amici! E vedete un like! Ciao, alla prossima! Ciao! 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 Grazie a tutti.